Ciao ragazzi, rieccoci qui in macchina per un'altra chiacchierata. Ancora in macchina perché in realtà, come sapete, abbiamo in sospeso il discorso sull'approfondimento, diciamo sul discorso di quanto l'omologazione faccia percepire gli esseri viventi come esseri senza valore, tutti fatti con lo stampino e quanto sia pericolosa questa cosa, secondo me. Però, come vi dicevo, vi ho accennato l'argomento chiacchierando così al volante, però preferirei approfondirlo in un video un pochino più ragionato e strutturato, insomma, creato un po' meglio, magari girato in casa, insomma, o anche all'aperto, però ecco, non ho mentre guido. Però, lo spunto invece per questo video l'ho preso e ho sentito l'urgenza di farlo, proprio perché l'altro giorno ho scambiato qualche email con una di voi, con una mia iscritta, carinissima, che saluto, ciao tu sai chi sei, che mi ha mandato delle foto bellissime dei suoi posti, e parlavamo appunto, ci scrivevamo, insomma, di cos'è che ti fa entrare nel flow, quindi qual è quell'attività che tu fai e ti scordi del tempo che passa, quindi magari ti c'immergi per delle ore e non te ne rendi conto, ti scordi dei problemi che puoi avere intorno, delle cose future, delle cose passate, insomma, stai proprio nel presente e quindi sei nel flusso della vita, diciamo. Condizione che è sempre più rara per noi, soprattutto occidentali e per le persone della mia età, perché ad esempio a fare questa attività, cioè a rimanere nel presente, sono gravissimi bambini, può riuscirci qualche anziano spesso, però per le persone dai 30 ai 60 anni, secondo me è molto difficile riuscire a rimanere concentrati sul momento presente, perché siamo presi da tanti pensieri, tanti doveri, pressioni sociali, eccetera, insomma. E questa ragazza ha tirato fuori il concetto di giapponese, diciamo, di flow, cioè l'ikigai. Allora io mi sono informata perché non conoscevo questo termine, o meglio, ne avevo sentito parlare, però non avevo mai approfondito l'argomento, per capire appunto di cosa si trattasse, insomma. E l'ikigai è quello che in Giappone intendono per, a quanto insomma ho potuto leggere io, intendono per stare nel flusso. Però ne danno una definizione, secondo me, ancora più precisa e più contestualizzata. Vi spiego meglio. Aspettate che c'è uno stop brutto. Ecco. Noi occidentali tendiamo a pensare in maniera molto meccanicistica, tanto che diventiamo degli automi nelle nostre giornate, diventiamo degli automi per anni e abbiamo la vita, diciamo, scandita da, a seconda delle fasi, da, appunto, varie tipi di attività. Quindi, non so, fino ai 25 anni si studia. Dai 25 ai 40 bisogna pensare a fare carriera. Dai, non so, dai 40 ai 65, 70, ormai si avanza sempre di più, bisogna pensare a produrre. E dai 70 in poi, se si è fortunati di stare ancora bene, avere delle energie, ci si gode la pensione. Io adesso stavo pensando in questo momento, mentre ne parlo con voi, che praticamente le tappe io le ho saltate tutte. Prima forse quella dello studio, sicuramente ho saltato quella della carriera e quella della costruzione di una posizione lavorativa o sociale. Ecco, perché, insomma, voglio dire, quantomeno ancora per adesso non ho figli, non sono mamma, non ho fatto, cioè io convivo, non ho fatto il rito né civile né religioso del matrimonio, non ho costruito una carriera. Quindi, insomma, l'unica cosa forse che ho fatto è che sono stata una brava studentessa e poi ho cercato di dedicarmi alle mie passioni. Comunque, per tornare al tema principale, dicevamo l'ikigai perché come concetto è affascinante e secondo me molto importante. Perché noi, appunto, oltre a vivere una vita in termini meccanicistici, quindi automatizzati, e ci sentiamo quasi in colpa a livello sociale se non seguiamo le varie tappe. Io, per esempio, non so se capita anche a voi, però spesso mi sento in imbarazzo quando parlo con le persone di come mi vanno le cose adesso, ad esempio, insomma, quello che faccio, che non faccio, eccetera. Mi trovo sempre un po' pesante spiegare la mia situazione, le mie condizioni di vita particolari e la cosa è abbastanza ridicola perché è proprio una cosa quasi istintiva come risposta perché non ha un grosso fondamento logico, nel senso che io non mi sono mai fatta particolari problemi di fatto a vivere come mi sentivo e di conseguenza le persone in questi anni mi hanno sempre visto vivere la mia vita in modo particolare per cui non è che faccio cadere nessuno dal pero, diciamo, men che meno me stessa quando dico certe cose quindi è un imbarazzo strano, diciamo, però insomma mi capita di sentirmi imbarazzata perché devo giustificare insomma quello che faccio o non faccio, eccetera. Dicevo, quindi la maggior parte però di noi, come è capitato anche a me in molti periodi, vive in maniera meccanica e molto conformista. Le persone più illuminate che mi è capitato di incontrare vivono seguendo dei progetti e questa è una bella cosa, nel senso che magari uno progetta cose importanti per il futuro quindi dice, passerò, ad esempio, voglio arrivare fra dieci anni al tale obiettivo quindi passerò due anni a fare questo, altri tre anni a fare quest'altro, eccetera, eccetera finché avrò percorso tutta la strada studiata per arrivare a questo obiettivo è bello perché gli obiettivi sono quelli che ci fanno andare avanti è stato così anche per me, vedi la laurea, vedi altre cose sono quelli che ci fanno andare avanti e che ci fanno anche affrontare le piccole tappe in funzione del, non so come può essere, dare un esame in funzione all'ottenimento del del conseguimento di una laurea o di un obiettivo maggiore, insomma, che magari nel momento in cui cominci il percorso vedi lontanissimo, quindi devi avere comunque l'idea del progetto, dell'obiettivo però questo è anche stato fuorbiante nella mia vita, insomma, e vedo anche per molte persone perché comunque il vivere troppo di progetti, soprattutto a lungo termine, ti porta spesso a scordarti della quotidianità cioè tutti noi amiamo ripetere la frase fatta ma la vita è fatta di quello che viviamo tutti i giorni cioè non è fatta dell'evasione dei 15 giorni all'anno in un posto esotico o del fatto che non so, magari adesso vivo degli anni orribili poi fra qualche anno starò bene perché arriverò all'obiettivo che mi sono prefissato che questo può valere anche, non so, per dire faccio 30 anni di lavoro orribile e poi arrivo finalmente all'agoniata pensione ma può valere anche per periodi più brevi e per cose meno pesanti ma quello che differenzia appunto questo concetto orientale da quello che viviamo noi occidentali tutti i giorni è proprio lo scopo dell'alzarsi la mattina da letto tutti i giorni quindi sia che tu segua un progetto a qualsiasi punto del progetto sei sia che tu non segua un progetto, forse peggio ancora anche in quel caso lì ovviamente è importante la domanda cosa ti alzi a fare voglio dire per cosa ti alzi tutti i giorni e secondo me è importante centrare sempre, costantemente la nostra attenzione sul motivo per cui di giorno in giorno ci alziamo perché anche quando abbiamo un progetto a lungo termine la vita comunque è veramente fatta cioè noi l'unica cosa che abbiamo di certo nella vita è il momento che stiamo vivendo in questo preciso istante quindi comunque noi dobbiamo essere sempre centrati su quello che viviamo in questo particolare giorno quindi se anche io mi alzo perché dico sì io oggi mi sto alzando perché fra cinque anni sto facendo un percorso che fra cinque anni mi porterà al raggiungimento del tale obiettivo ok però io oggi perché motivo mi alzo cioè cos'è che mi spinge ad alzarmi dal letto oggi che non sia verificabile fra cinque anni diciamo secondo me è importante porsi questa domanda non solo periodicamente ma proprio quotidianamente perché altrimenti si corre il rischio di perdere di vista quello che per noi è veramente importante perché come più volte ho riflettuto con voi qui insomma ho riflettuto da sola con gli amici eccetera sul fatto che ad esempio per l'anima che è la nostra parte credo più importante il tempo non esiste cioè il concetto di tempo non esiste io se non sto bene anche se dico alla mia anima cioè se passo delle giornate che non mi soddisfano e dico alla mia anima vabbè dai tranquilla che fra cinque anni starai bene sì la mia parte razionale può accettarla questa cosa ma la parte animica non si rende neanche conto di cosa siano cinque anni ora ci vorrebbe un filosofo per spiegarla meglio di come la spiego io però in generale il concetto è questo insomma alla nostra parte più profonda non interessa se noi in un futuro prossimo o remoto staremo bene quello che interessa è lo scopo di quel momento insomma il motivo che il motore che ci spinge a fare le cose in quel momento quindi dobbiamo pensare sempre al fatto che stare nel presente quindi vivere nel flow significa proprio anche pensare davvero al motivo per cui facciamo quello che facciamo quindi è anche secondo me una buona guida diciamo per non perdersi nei meandri poi dei bisogni degli altri del dire ma sì dai tanto adesso sto così ma poi fra qualche tempo starò meglio allora adesso mi permetto di sgarrare di non far questo di non far quell'altro di anche passare dei giorni completamente contro la mia natura perché tanto poi so che riuscirò a vivere secondo la mia natura sono questioni che devono essere verificate invece il benessere deve essere verificato nella quotidianità non a distanza di anni questo non significa che uno non debba affrontare periodi difficili o tenere i denti stretti per raggiungere degli obiettivi io vi riporto sempre il mio esempio dell'università chiunque l'ha fatta comunque anche o qualsiasi altro percorso di studi sa che anche se tu fai la facoltà che ti appassiona come è stato il mio caso io l'università l'ho fatta puramente per vocazione per passione passi quei periodi in cui devi seguire un corso che non ti interessa tanto devi avere a che fare con una materia in cui magari non sei particolarmente brillante e quindi devi far fatica per entrare all'interno di questa materia di questo soggetto e quindi quando ti alzi tutte le mattine e affronti questa cosa è quanto mai importante secondo me chiederti perché lo fai e per cosa ti alzi quella mattina perché in quel caso lì l'obiettivo a lungo termine è il motore che ti spinge a superare quella cosa un po' come quando si supera non si deve cercare di affrontare la fatica e la tensione di un esame per poi avere in mano un altro esame conseguito e quindi un passo in più verso il traguardo però quello di cui noi ci accorgiamo facendoci questa domanda tutti i giorni per cosa mi alzo la mattina è proprio sempre per cercare di capire anche se il traguardo che stiamo inseguendo il progetto che abbiamo ci corrisponde sempre e ci corrisponde ancora perché uno degli errori secondo me che fanno le persone che ho fatto anch'io che vedo fare intorno a me è il dire non so a vent'anni ho un obiettivo magari a venticinque anni o anche a ventidue non è più lo stesso io però continuo ad andare avanti come un cavallo con i paraocchi verso quell'obiettivo senza più chiedermi ma ok ma all'epoca faceva per me ma adesso fa ancora per me adesso è ancora la vivo ancora così lo vedo ancora così quindi è quanto mai importante credo chiedersi queste cose tutti i giorni e non solo periodicamente non solo come dicono tanti curo ad esempio della crescita personale ogni mese ogni sei mesi fare il punto della situazione no bisognerebbe veramente chiederselo tutti i giorni secondo me diventa poi come tutte le cose un'abitudine sana per cui uno diventa anche più critico in senso positivo nei confronti della sua vita delle sue giornate perché quello che invece spesso ci insegna la società è quello di lasciarci vivere oppure di come dovremmo vivere quante volte io nell'insofferenza più totale per gli schemi sociali per il fatto di sopportare cose che non ti vanno di avere l'idea che quando finisce la tua giornata hai fatto tutto fuori quello che avevi deciso tu e che volevi fare io spesso andavo in cerca di confronto con le persone su questi argomenti e dicevo ma tu come fai a starci dentro come fai a vivere così eccetera e tante volte mi sono sentita rispondere ebbè ma la vita è questa cioè la vita dopo i 25 anni è questa cioè una serie di doveri, responsabilità casini che ti succedono e a cui devi fare affronte e senza particolari divagazioni ecco rispetto a questo sentiero e per me questo era scoraggiante chiaramente perché dicevo ma come è possibile che la vita si riduca a questo e che comunque sia tollerabile accettare una cosa del genere anche perché io tenete conto che un po' forse volendo anche da biologa sono stata molto a contatto e sono molto a contatto con la natura con gli animali con gli esseri viventi in generale che non hanno convenzioni sociali che non hanno una sovrastruttura razionale diciamo e vedo che ognuno di loro vive se può vive secondo la sua natura e solo gli animali ingabbiati non vivono secondo la loro natura e noi l'altra cosa paradossale è che ci siamo costruiti delle gabbie da sole queste gabbie ce le siamo costruiti noi quelle in cui viviamo mentre un animale se è libero che non è messo in gabbie attivamente dall'uomo vive secondo la sua natura l'orso fa l'orso il gatto fa il gatto non è che tenta di diventare un uccello o un albero ecco cose che invece noi facciamo e addirittura questo è anche un altro paradosso siamo arrivati a doverci fare i discorsi che faccio io oggi perché siamo talmente fuori contatto siamo talmente lontani dalla nostra natura dal contatto con quello che spontaneamente faremo e sentiremo di fare che periodicamente dobbiamo interrogarci se siamo sulla strada giusta o no quindi per un animale sarebbe comica questa cosa per cui e anzi meno male che qualcuno di noi se lo chiede perché secondo me è più utile chiederselo da giovani cominciare subito a chiederselo piuttosto che arrivare a 70 anni guardarsi indietro e chiedersi ma scusa io però fino adesso cosa ho fatto e poi un altro aspetto poi chiudo perché ho già parlato tantissimo questo viaggio è un po' lungo l'altra sera parlavo con una mia amica siamo andata a prendere un caffè insieme per fare due chiacchiere lei è un po' più grande di me vive una situazione familiare particolare ha sempre vissuto con i suoi adesso il padre anziano è morto vive con la madre con cui va molto d'accordo però l'altra sera aveva quasi le lacrime agli occhi perché diceva io sono contenta di vivere bene con mia madre però ho paura perché sono troppo attaccata a lei in un'età in cui invece dovrei avere la mia vita professionale, familiare, sentimentale invece non ho niente di tutto questo e insomma non mi sta bene mi sta stretta questa situazione mi fa un po' paura e io pensavo sempre collegandolo a questo argomento questo suo sfogo mi ha fatto riflettere su due fronti primo sul fronte della convenzione sociale per cui tu ti senti in colpa perché appunto a 43 anni suonati fai una vita ancora da ventenne quindi magari a te sta bene per molti aspetti ma ti senti in colpa perché la società ti vede come un reietto da quel lato e secondo me questo aspetto bisognerebbe molto mitigarlo bisognerebbe molto smorzarlo per il più possibile perché appunto non sono gli altri che ci dicono come è giusto vivere per noi ecco e poi quindi rifletteo su questo aspetto e sull'aspetto proprio del dire ma questa ragazza qua no ormai continuo a dire ragazza perché non voglio invecchiare ma comunque si chiede tutti i giorni che cosa per che cosa mi alzo cioè sia invece che solo per giudicarsi per dire oddio ecco adesso un'altra giornata vuota in cui starò qua con mia mamma e non farò niente di utile per me stessa eccetera eccetera si chiede che cosa tutte le mattine che cosa mi alzo a fare in maniera costruttiva cos'è che mi fa star bene cosa potrei provare a fare cosa potrei ecco perché secondo me io questo è quello che ho cercato di suggerirle per cercare di nel mio piccolo darle sollievo farla stare meglio dicevo ma farsi questa domanda è importante perché tu anche se non hai subito la risposta come capita spesso cominci ad abituare la tua adesso non posso dire l'anima perché non vabbia la tua coscienza a mettersi alla ricerca di quello che ti fa star bene quindi non hai la risposta subito magari anzi sei talmente fuori pista che ti metti a fare le cose più strampalate più assurde a me è capitato magari in periodi in cui ero particolarmente depressa demotivata e però volevo darmi una scrollata che ero talmente lontana dalla mia natura non mi conoscevo più per cui cosa succedeva che mi mettevo a fare delle attività che secondo me in quel momento lì erano buone per me magari per delle idee che mi ero fatta anche inculcate da altri eccetera e poi mi trovavo ridendo a tornare a casa a volte ridendo veramente di me stessa ridendo in senso buono dicendo ma cosa cavolo sei andata a fare però anche quello serve perché comunque tu ti educhi a farti la domanda e come diceva Edison no quando fallisci non hai fallito hai trovato solo mille modi in cui una cosa non va fatta quindi secondo me anche quello spirito ti aiuta a diventare più critico in senso positivo verso te stesso e a dire ma che cos'è che mi farebbe alzare la mattina volentieri cos'è che starei bene a fare e quindi comunque hai questa spinta a a ricercarlo quello che ti fa star bene e a volte secondo me ti si possono aprire delle dei mondi sconosciuti vi racconto solo questa giusto per lasciarvi con un messaggio positivo dopo questi pipponi insomma un po' pesanti anche da digerire stavo facendo ancora l'università era un periodo in cui mi ricordo davo tanti esami però insomma ero stanca ero un po' demotivata così e una la mia migliore amica di sempre diciamo una persona meravigliosa una ragazza che ha fatto l'università con me ha visto appeso in una bacheca nella nostra facoltà perché all'epoca internet non era così diffusa che ancora si andava per annunci stampati l'annuncio di un ragazzo di un artista che faceva lezioni di acquerelli naturalistici in illustrazioni botaniche eccetera noi essendo del settore per dire in alcuni esami c'era addirittura richiesto di disegnare le strutture osse le strutture muscolari gli organi eccetera e quindi mi fa dai perché non ci iscriviamo a questo corso io dicevo ma io sì da piccola disegnavo però poi non è che è una cosa che ho mai coltivato tanto mi trovavo spesso a disegnare come anche però a leggere a scrivere eccetera quindi non è che è una cosa che ho coltivato particolarmente sopra le altre e ho accettato in quel momento lì ho detto ma sì dai facciamolo insomma avevo un po' di soldi da parte ho detto sì dai facciamolo e vediamo come va insomma e mi si è aperto un mondo tanto che poi per anni ho lavorato con le illustrazioni ho tirato fuori dei talenti che mai pensavo di avere come anche poteva essere un buco nell'acqua totale alcune persone hanno seguito il nostro esempio hanno capito che non faceva per loro magari perché non avevano la mano non avevano la pazienza non ci vedevano diciamo un'utilità ecco per loro stessi e quindi hanno hanno smesso però si sono accorti magari che erano tagliati per qualcos'altro quindi per dirvi anche da una semplice cosa così può nascere si possono aprire dei mondi e soprattutto si apre l'abitudine di chiedersi cosa cosa è giusto per noi e cosa fa per noi niente ragazzi io vi saluto perché sono quasi arrivata e soprattutto perché ho parlato tantissimo e un bacione a tutti e a presto con l'argomento che vi avevo promesso ciao